La protezione dell'ambiente, i cambiamenti climatici e le catastrofi naturali che provocano gravi danni e diverse vittime tra la popolazione dell'isola di Dominica sono stati al centro del colloquio tra Papa Francesco e il presidente del Commonwealth di Dominica, Charles Angelo Savarin. Nel corso del colloquio si è fatto riferimento alle buone relazioni bilaterali, rilevando l'opportunità di una proficua e mutua collaborazione tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, che offre un significativo contributo alla promozione della dignità della persona umana nonché nei settori dell'educazione dei giovani e dell'assistenza ai più bisognosi.